Garibaldi e Rosy Chin sotto accusa, signorini pronto a chiedere spiegazioni. Sono giorni molto complicati questi al grande fratello. Solo oggi Fiordaliso ha ammesso di essere tentata di lasciare il gioco. Lunedì, invece, era stata Anita a rompere gli argini spiegando di sentirsi sotto attacco. È un gioco, non mi faccio rovinare la vita, ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria, aveva detto Anita. Anita che poi non aveva portato a compimento il suo progetto. Per lei, i prossimi, saranno giorni difficili. Non solo i telespettatori le hanno messo gli occhi addosso, ma anche Alfonso Signorini che nel corso dell'ultima puntata l'aveva duramente ripresa. Di sicuro se ne parlerà nella prossima, come si parlerà di quanto successo tra Garibaldi e Rosie Chin. I due si sono resi protagonisti di una evidente violazione del regolamento. Nel video che sta circolando in rete, scendi in basso per vedere, si vedono i due concorrenti parlare in codice. Rosie, addirittura, copre il microfono per non farsi sentire dalla produzione e dagli spettatori. Su cosa si siano, ci sono però un paio di versioni. La prima è quella secondo la quale i due GFini avrebbero parlato alle spalle di Beatrice ancora una volta. Altri ipotizzano che stesero parlando della situazione di Anita.